Buonasera e ben trovati a una nuova puntata di Montemurlo in forma, puntata questa sera quasi tutta dedicata alla scuola, agli studenti e alle iniziative al loro beneficio, partendo da un progetto innovativo finanziato dal comune di Montemurlo perché il linguaggio dei segni a Montemurlo si impara sin dalla scuola dell'infanzia, è un progetto che coinvolge due classi frequentate da due bambini affetti da sordità, un operatore specializzato insegnerà il linguaggio dei segni a tutti i compagni di classe di questi due bambini oltre che alle insegnanti e ai genitori per una vera integrazione, guardate. A Montemurlo la scuola inclusiva fin dall'infanzia partirà a breve il progetto di insegnamento della lingua dei segni in due scuole dell'infanzia del territorio, la Elaria Alpi di Ost e la Grazia Deledda di Montemurlo, frequentate da due bambini affetti da sordità, un progetto voluto e finanziato dal comune di Montemurlo che vedrà la partecipazione in classe di un educatore sordo e di un comunicatore specializzato che insegneranno la lingua dei segni in modo che i bambini possano comunicare con facilità con il compagno non udente. Questo progetto nasce grazie all'incontro tra il comune e i genitori di questi bambini non udenti, insieme abbiamo cercato qualcosa che potesse migliorare la loro quotidianità all'interno della vita scolastica della scuola dell'infanzia. Abbiamo quindi individuato un progetto che ha come l'obiettivo quello di insegnare la lingua dei segni a tutti i bambini che sono in classe del bambino non udente oltre all'insegnante, quindi è un progetto tutto tondo che coinvolge non solo il bambino sordo ma tutti i compagni, le maestre e i genitori. Verranno delle lezioni, quindi i genitori verranno formati proprio con un educatore sordo che gli trasmetterà i primi passi e le prime azioni di approccio a questa nuova lingua. I bambini inoltre riceveranno dei laboratori didattici integrati e specializzati proprio da educatori in modo da far partecipare i loro compagni e creare quindi l'integrazione. Il corso durerà dei mesi fino a giugno, una volta a settimana i bambini riceveranno la visita dall'educatore specializzato che li accompagnerà in questa sorta di viaggio, gioco con i bambini stessi. Imparare una nuova lingua come la LIS porta beneficio a tutti. È stato infatti dimostrato che tale insegnamento favorisce anche negli udenti lo sviluppo linguistico e la comprensione della propria lingua, le modalità di espressione visivo-gestuale, potenze in modo significativo, i fattori cognitivi quali l'attenzione e la memoria visiva, fondamentali nello sviluppo di varie competenze e apprendimenti. È un progetto innovativo e sicuramente l'amministrazione comunale si è data da fare per trovare i contatti. Si tratta di un'associazione Elfo, che è stata contattata per il progetto e diciamo che è la prima volta che anche in questa scuola ma anche in altre scuole si propone un'iniziativa del genere, perché finora c'era solo questa figura che accompagnava il bambino facendo un po' da interprete. Invece l'idea è quella proprio di coinvolgere i compagni di classe. Giornata della memoria a causa dell'emergenza coronavirus. Le tradizionali iniziative per celebrarla si terranno tutte online. Sentiamo quali sono dal presidente del Consiglio Comunale di Montemurlo, Federica Palanghi. Quest'anno ovviamente la pandemia ha molto limitato quelle che sono, che è stata l'organizzazione delle iniziative per il giorno della memoria, però non siamo voluti mancare anche dal punto di vista istituzionale nel ricordare questa giornata che è quella appunto del 27 gennaio. Come? Abbiamo pensato che comunque la modalità online, se limita tutte quelle che sono iniziative in presenza, però ci può permettere al Comune di Montemurlo di riunirci con tutti i comuni della provincia di Prato per un consiglio straordinario avente ad oggetto appunto il tema, esclusivamente il tema della memoria. Saranno invitati anche il Museo della Deportazione e la Fondazione CDSE, in modo che possiamo anche dare un quadro di quello che è la deportazione dei nostri territori. Con il Museo della Deportazione quindi è invitato anche l'AMPI, l'ANED, la comunità ebraica. Avremo anche la partecipazione della regione con Ilaria Busetti e probabilmente anche direttamente Gianni con un loro intervento. Ci sarà il link per seguire lo streaming per tutti i cittadini che sarà pubblicato sul nostro sito e il giorno appunto sarà il 27 gennaio, in tardo pomeriggio, verso le 18. Per quanto riguarda poi le iniziative che abbiamo organizzato come Comune di Montemurlo con le scuole, è stato organizzato sempre online un ciclo di incontri in collaborazione con Valentina Vespi, l'assessore con delega alla memoria, che vede coinvolte le terze medie delle nostre scuole. Sarà ospite in uno di questi incontri anche le sorelle Bucci che offriranno la loro testimonianza. Non solo, c'è anche il coinvolgimento, però questa sarà in realtà un'iniziativa che verrà fatta in presenza delle nostre scuole del Brunelleschi con il Teatro Metro Popolare all'interno di un'iniziativa organizzata insieme al Comune di Prato e sarà appunto una performance sulle pietre d'Inciampo. Questa è un'iniziativa in realtà che sarà fatta, si cercherà di fare in presenza e quindi è programmata per i prossimi mesi e non nell'imminente. Sono incontri rivolti in particolare agli studenti perché pensiamo che debba nascere proprio lì tutto quello che è un impegno nel promuovere quindi la memoria e nel lavorare proprio perché i valori della nostra Costituzione che nascono dalla resistenza e da quello che purtroppo è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale siano valori sentiti profondamente da tutti, quindi il valore ovviamente della libertà, dell'uguaglianza, della tolleranza, della pace e questo è per noi una grande priorità. Per la festa di San Sebastiano che si è tenuta a mercoledì scorso la Polizia Municipale ha donato ai bambini delle scuole primarie del territorio un gioco per imparare la sicurezza stradale. Un gioco dell'oca che insegna i comportamenti più giusti da tenere sulla strada per non incorrere in pericoli. È quello che il Comune di Montemurlo ha consegnato nelle scuole primarie del territorio in occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. A causa del Covid-19 quest'anno tutte le iniziative di educazione stradale si sono dovute temporaneamente fermare. Così l'amministrazione ha pensato di regalare un gioco da tavolo che potesse aiutare i bambini ad apprendere le principali regole della sicurezza su strada divertendosi. Si chiama Stradoca ed è un gioco che aiuterà i ragazzi a continuare anche in classe con le insegnanti naturalmente le buone pratiche che riguardano appunto la strada. Purtroppo non abbiamo potuto fare attività in presenza e quindi questo vuole essere un modo da parte nostra per continuare comunque, nonostante l'emergenza sanitaria, ad essere presenti e attivi nelle scuole come abbiamo fatto in questi anni. Ci sono anche tanti progetti che negli anni sono stati portati avanti. Proprio nel 2019 la Strada Giusta, che è un progetto di educazione stradale che dura da tanti anni, ha compiuto la maggiorità. Questo come segnale appunto di attenzione alla prevenzione, all'educazione stradale e alle regole. La consegna dei giochi si è svolta simbolicamente alla scuola primaria Margherita H. di Bagnolo nella classe quarta A ed erano presenti, oltre al sindaco Calamai e all'assessore Vespi, la preside del comprensivo H. Maddalena Albano, gli ispettori della polizia municipale Stefano Grossi e Stefano Melani e la comandante ad interim della polizia municipale Vera Aquino. Un'occasione anche per fare il punto dei controlli svolti nell'anno appena concluso. Gli incidenti sono di fatto dimezzati, soprattutto quelli conferiti, non ci sono stati incidenti gravi con prognosi o peggio ancora con morti. È chiaro che nel dato avrà influenzato molto anche i vari lockdown e le varie restrizioni a circolazione dei veicoli e delle persone che hanno contribuito, facendo girare meno veicoli, anche probabilmente a aumentare la sicurezza sadale. Il dato però conferma un dato in calo già che era presente negli ultimi anni. Il passaggio rosso sono circa 220 violazioni per l'anno 2020 che sono in calo rispetto al 2017 quando abbiamo installato l'impianto. Per le assicurazioni c'è un leggero calo perché chiaramente con i controlli fatti per il lockdown eccetera abbiamo spostato l'attività un po' su questi altri campi. Però sono circa anche lì oltre 100 veicoli senza assicurazioni che abbiamo trovato nell'ambito del 2020. E per questa puntata è tutto. Montemurlo in forma torna tra una settimana sempre di venerdì alle 20.05. Grazie per averci seguito e buona serata.